candidato sindaco al comune di borzonasca il sindaco uscente giuseppino maschio per la lista rinnovamento e progresso nel comune di borzonasca una lista unica un unico candidato a sindaco quindi il suo contendente sarà il quorum dovremo nella campagna elettorale che faremo spiegare bene alla gente che appunto bisogna andare a votare perché magari molti possono dare per scontato che c'è una lista sola quindi è tutto detenito invece no bisogna appunto andare a votare perché se non si supera il 40 per cento il voto è nullo e di conseguenza arriva la prefettura nomina un commissario ad acta e probabilmente ci starà almeno un anno fino alle prossime elezioni del 2025 borzonasca un comune che ha attraversato diversi problemi proprio per la fragilità del territorio le chiedo che cosa la induce nonostante tutto a ricandidarsi probabilmente un pizzico di pazzia l'altro affetto l'amore che si ha per il proprio paese e una buona dosa anche di passione perché devo dire che più sommato fare l'amministratore del comune mi piace e poi mi sento anche orgoglioso di essere il sindaco del mio paese anche se è una grande fatica ci vuole un grande impegno però insomma tutto viene superato dalla passione in questa sezione di votazioni dell'otto e il nove giugno prossimo una delle difficoltà più comuni che abbiamo rilevato è stata quella della composizione delle liste sempre meno persone hanno voglia di impegnarsi nella pubblica amministrazione per diversi motivi lei ha una lista come la composta tenendo presente quali principi sì il fatto che probabilmente saremo soli e anche sintomatico di questa difficoltà trovare delle persone che si vogliono impegnare in questo chiamamolo mestiere molto difficile molto molto complicato non ho avuto io personalmente problemi a comporre la lista nonostante la maggior stragrande maggioranza dei miei consiglieri attuali e colleghi attuali ha deciso di non ricandidarsi per motivi familiari per motivi di lavoro per stanchezza dovuta ad ampi anni di amministrazione quindi c'è stato un fortissimo rannovamento diciamo i quattro quinti dei consiglieri sono nuovi che caratteristiche hanno questi consiglieri ma nella composizione si è cercato di tenere un po conto di tutte un po di tutte le specialtature della società di oggi quindi è abbastanza variegato non non tralasciando il fatto di una certa rappresentatività anche del territorio altro fatto importante oltre che alle specifiche competenze nei vari settori è anche quello di avere disponibilità di tempo per quanto è possibile che poi il fatto di essere consigliero ossessore non è un titolo onorifico significa poi dover impegnarsi a lavorare perché sennò si corre il rischio di fare mi danno che utile quindi bisogna bisogna insomma avere un po di tempo disponibile e impegnarsi in queste cose credo che anzi sono certo che la squadra che abbiamo messo in piedi abbia queste caratteristiche possa fare un ottimo lavoro posso chiederle in maniera davvero molto sintetica perché immagino che sia molto articolato i tre punti più qualificanti del programma che intende proporre in questo nuovo mandato ma tanto per portare a compimento tutti i lavori che abbiamo insomma in corso insomma in questa legislatura di lavori diciamo straordinari finanziati in parte eseguiti in parte abbiamo superato i 5 milioni di euro di investimento quindi i punti nevagi sono la viabilità che purtroppo noi abbiamo un territorio molto basso quindi ci sono 80 chilometri di strade da mantenere e la manutenzione dei rivi dei fiumi che hanno anche quelli che producono problemi sul nostro territorio la sentiristica legata soprattutto al turismo che in effetti ha avuto un forte rilancio negli ultimi anni e poi il discorso via sociale che diventa sempre più impegnativo sempre più drammatico perché un po perché la gente diventa più anziana un po perché siamo la frontiera della diciamo della costa che non ti non ha spesso non dico spazio ma chi ha difficoltà a vivere sulla costa poi si sposta nell'immediato entroterra e forse costa meno la vita anche perché poi si vive bene si vive meglio però questo a volte si portano dietro delle problematiche che incidono sui comune quindi diciamo che il sociale in questi ultimi tempi sta assumendo proporzioni veramente importanti dall'amministrazione comunale qual è una caratteristica che deve avere un sindaco in un in senso generale ovviamente ma in maniera più dettagliata in un comune come quello che è borzonasca quindi con una popolazione limitata e chiaramente con tutti i problemi tanto tempo disponibile avere voglia di affrontare qualsiasi tipo di problema qui non siamo nei grandi comuni dove c'è una struttura dove può in qualche maniera affrontare qui e spesso da sociale alla viabilità all'illuminazione pubblica ai trasporti scolastici alle scuole poi alla fine ti arriva addosso tutto cioè non abbiamo filtri devo dire che ho degli ottimi collaboratori però insomma quando va bene ce n'è uno che funziona quindi quindi l'amministratore a volte non fa solo l'amministratore in senso di dare le direttive fa proprio lì piegato anche ci sono io sento parlare dei colleghi che addirittura devono andare a fare anche lavori manuali qualche volta ci vado anch'io quindi è una è una funzione a 360 gradi insomma quindi della grande città c'è una struttura uno fa diciamo gli indirizzi politici e poi c'è pesa e qui invece come si suol dire bisogna cantare e portare la croce come la prenderebbe se non si raggiungesse il quorum e vedesse il comune commissariato male ovviamente mi dispiacerebbe molto comunque prenderei atto della decisione della popolazione di botanistra di non andare a votare quindi a non confermare l'amministrazione uscente quindi prenderei atto e mi ritirerei nella mia vita privata insomma